Eccoci con il signor Ermanno De Luca che è il gestore del Garden Rose dove vengono ospitati decine di immigrati provenienti da Lampedusa, da altre realtà. Quanti ne sono in totale, signor Ermanno? Sono 94. Da quanto tempo sono qui? I primi sono venuti il 24 di marzo. Di che nazionalità sono in prevalenza? Ho visto Gambia, Senegal, Mali. Loro chiedono un asilo politico, attenzione. Quindi sono tutti rifugiati? Tutti rifugiati politici chiedendo un asilo politico. In attesa che la Commissione esamine la loro posizione e li giudichi. Quanto tempo passa? L'iter quanto è lungo? 4-5 mesi. Quanti anni hai di AUNED e da quanto tempo sei qui in Italia? 8 anni. Io sono in Italia da 7 mesi. Come si trovi qui in questa struttura? Questa albergo. Buon? Sì, sì. E da dove sei? Sì, sono da Ghana. Sì, da quanto tempo sei in Italia? Sì, da quanto tempo sei in Italia? Sì, da quanto tempo sei in Italia? Sì, da ultimi 2 mesi sono qui. Sì, da ultimi 2 mesi sono qui. Sì, da ultimi 3 mesi sono qui. Sì, da ultimi 3 mesi sono qui. Dice che ha dei problemi nel suo paese. Quali tipi di problemi? Il mio problema è il problema della famiglia.